Primo giorno del Filovia, via ai test del Filobus verde, il nome scelto non a caso dall'azienda tua perché ha inquinamento zero. Dalle 9 di questa mattina sono cominciate le prove tecniche col mezzo da 18 metri sul tracciato elettrificato. Il percorso è lungo 8 chilometri e 150 metri e va dalla zona dei grandi alberghi di Montesilvano sino al terminal bus davanti alla stazione ferroviaria di Pescara. I viaggi di prova andranno avanti per nove settimane. Finisce così l'era della strada parco. Il direttore generale di TUA, Maximilian Di Pasquale. Fase, la definiamo così, di pre-esercizio comincia di fatto una nuova era. Sì, diciamo io tendo ad essere sempre prudente, ottimista ma prudente. Oggi inizia il periodo di prova vera e propria quindi al di là di un cantiere inizia a configurarsi come una infrastruttura di trasporto. Ci sarà un periodo in cui verranno effettuate le verifiche del mezzo sulla linea e quindi la compatibilità del mezzo con la linea e dell'infrastruttura del mezzo. Qui seguirà poi la formazione dei filovieri abilitati, tutto quanto con l'obiettivo di entrare in esercizio al pubblico entro l'estate. Collegamento sì, ma anche la tutela dell'ambiente. Soprattutto si tratterà di un mezzo full electric, il cui vero beneficio non sarà tanto quello di inquinare di meno di un autobus a gasolio, ma sarà quello di attrarre verso il mezzo pubblico persone che abitualmente potrebbero viaggiare con la macchina e invece potranno scegliere, dovranno, o aspettiamo che scelgano, di viaggiare comodamente su un mezzo con una capienza di 134 persone dove sono garantiti i tempi di arrivo e di transito. Prestando in grado più attenzione a tutto quanto quello che riguarda l'adozione e il rispetto degli standard di sicurezza e quindi più verifiche per quanto riguarda la segnaletica, verifiche sulla vicina commerciale, verifiche per tutto quello che possa garantire l'incolumità dei cittadini. Tante le vie di transito, voglio dire, bisogna abituarsi a questo nuovo modo di intendere il trasporto o no? Allora, le novità all'inizio sono sempre viste con sospetto. Sarà anche nostro dovere quello di tranquillizzare, accompagnare, attuare tutte quante le misure mitigative del rischio e rendere l'opera il meno stressante, il meno impattante possibile. Comunque avremo un periodo di qualche mese per provare e per iniziare a abituare gradualmente l'utenza sul fatto che cambierà la viabilità e cambierà la modalità di trasporto. Fine giugno? Diciamo sì, fine giugno o inizio luglio, poi dipende da alcuni fattori e anche qui lo ribadisco. Soprattutto quello che sarà il pronunciamento della sfisa, che è l'ente proposto alla verifica degli standard della sicurezza sui sistemi ferroviari e sugli impianti fissi. Noi faremo in modo di essere nella sostanza e come organizzazione interna, e come formazione, e come impianto, pronti per giugno. Sì.